ciao ragazzi amici di cenadils.it un salutone da pasqui prima della recensione del nostro oneplus 7 pro che sto preparando e vi garantisco che ne sta uscendo veramente bene perché è davvero un gioiello dal punto di vista dell'hardware ma non solo è doveroso fare un mini confronto flash tra questi due mostriciattoli il primo oneplus 7 liscio con 8 giga di ram e 256 di storage interno il secondo 12 giga di ram e 256 di storage interno entrambi con memorie ufs 3.0 e ram lp ddr4x quindi dei mostri di velocità e di reattività nell'usabilità quotidiana e questa è la cosa più importante di tutte assieme all'autonomia e alla ricezione approfitto per salutare tutti gli amici dei nostri gruppi telegram malati di smartphone onorventi viurenti cianadi san franz bo box group e saluto lo zio mi raccomando ragazzi partecipate alle live del lunedì alla sera tutti santi lunedì noi facciamo la live in diretta potete partecipare per fare domande discutere confrontarvi con noi e parlare anche del più e del meno perché no ci vediamo alla prossima live e subito dopo la sigla per il confronto tra questi due oneplus 7 bene adesso vediamo facciamo un test di pura velocità annulliamo tutte le app aperte abbiamo il desktop identico sia su uno che sull'altro dobbiamo ricordarci che uno ha 12 giga di ram e quindi 4 giga di ram in più dell'altro abbiamo le stesse applicazioni messe sul desktop le andiamo a chiudere tutte in modo da poter sperando che non arrivino troppe notifiche bene adesso abbiamo messo il display più o meno con la stessa luminosità qui ho la modalità 60 hertz non a 90 e andiamo a fare un confrontino sulle app e poi anche sulla navigazione chiudiamo le migliaia di notifiche che arrivano purtroppo ne arrivano di continuo ragazzi ed è così proviamo a portare pazienza abbiamo chiuso tutte le app proviamo ad aprirle vedere chi ci mette meno iniziamo con l'app di yellow bank youtube studio youtube youtube siamo veramente lì ragazzi impostazioni email subito immediato play store gestione file guardate che due schegge che sono con questo snapdragon 855 galleria chiudo perché non vi faccio vedere le anteprime delle foto che ho fatto per la recensione fotocamera telegram bene sono avete visto delle schegge entrambi adesso andiamo a chiedere il sito la repubblica per vedere come navigano tutti e due vediamo siamo entrambi sotto rete wifi in questo momento qui non ho inserito la sim perché l'ho provata alternandola perché l'altra sim per il momento non è disponibile quando devo fare la ricezione da questa parte con la rete 4g devo spostare la sim da una parte all'altra bene richiediamo il sito desktop su entrambi impressionante la reattività ecco qui ci mette un pelino di più a caricare la pagina vedete apriamo una notizia 1 2 e qua i giga di rami in più si fanno sentire nell'apertura delle pagine web per quanto riguarda invece la reattività nella navigazione sono entrambi ad alti livelli ma non avevamo dubbi su questo torniamo dentro un attimo apriamo una notizia di sport qui è iniziato al caricamento prima ma qui è riuscito a renderizzare la pagina prima perché evidentemente 12 giga di ram rispetto a 8 si fanno sentire ma si parla ragazzi comunque di frazioni di secondo e vediamo si nella navigazione il pro questa versione del pro è decisamente più veloce anche se adesso andiamo ad aprire una notizia di tennis siamo davvero velocissimi su tutti e due i dispositivi ragazzi adesso vediamo quanto ci mette ad aprire real racing intanto vi parlo di batteria allora la batteria io sto provando diverse modalità la modalità con 90 hertz arriva massimo a fare con il mio utilizzo quelle 5 ore e mezza 6 ore di schermo attivo e però devo dire che essendo nuovo deve adattarsi ancora ad assestarsi del tutto con invece la modalità 60 hertz mantenendo sempre comunque la risoluzione la modalità di 2k riesco ad arrivare a utilizzarlo anche di più quindi alle 7 ore e mezza ci sono arrivato se poi vado a ridurre ulteriormente la risoluzione lo faccio andare forzatamente in full hd nelle stesse condizioni del suo fratello minore allora arrivo quasi ad ottenere le stesse prestazioni dal punto di vista dell'autonomia qui abbiamo ancora qualcosina in più perché riusciamo si vede con la 3.700 riesco ad ottenere risultati migliori io sono arrivato quasi a 9 ore di display attivo su 15 ore di utilizzo una cosa impressionante sul oneplus 7 liscio cosa che non mi sarei mai aspettato penso di avervelo anche detto in fase di recensione vediamo se ha scaricato l'ha installato adesso siamo pronti apri vediamo 1 2 3 via ah qui devo scaricare altri dati anche qui facciamo una prova in download vediamo che ci mette meno anche se questo è partito dopo secondo me arriveranno pari o addirittura vincerà oneplus 7 pro per via della sua diciamo forza bruta vediamo abbiamo dato un po di vantaggi in questo caso al 7 vediamo il 7 pro come si comporta in download ricordo stanno scaricando entrambi dalla medesima rete wifi fibra 100 mega qua l'ha quasi raggiunto è anche se non vuol dire nulla perché alla fine dipende dalla velocità di download e dalla disponibilità di banda però qua mi sembra che sia in vantaggio comunque la velocità si nota indipendentemente dalla velocità di banda qui abbiamo quello sprint in più qua comunque stiamo parlando sempre di 8 giga lp di dr 4x e 256 di storage di memoria di tipo ufs 3.0 su entrambi quindi siamo ad altissimi livelli non sto a fare i benchmark non sto a tirare fuori i dati che secondo me sono un po fini a se stessi ma conta di più secondo il mio punto di vista valutarli nelle operazioni che usualmente vado a fare tutti i giorni qua comunque abbiamo qualcosina in più guardate è partito dopo e sta scaricando più velocemente bene è in fase conclusiva guardate l'ha superato e non dico doppiato perché no però è partito più tardi l'abbiamo visto insieme in diretta ed è arrivato prima perciò oneplus 7 pro versione 12 giga 256 sempre con lo stesso snapdragon 855 per entrambi riesce ad avere uno sprint in più qui ha finito uno potrebbe dire fosse riuscito a prendere meglio la banda come dire vedete che adesso che ha finito lui lui diventa decisamente più veloce adesso vado a chiudere tutto in modo da poter vedere quanto si apre velocemente il gioco su entrambi apriamo real racing e vediamo chi ci mette meno a caricare 1 2 3 via the winner is oneplus 7 pro proprio in fase di caricamento si vede che c'è una forza maggiore bene ragazzi detto questo fatta questa prova a parità di hardware forse saremmo un pochino più equilibrati qui i 4 giga di rami in più si fanno sentire non poco anche se nelle operazioni delle app dei social e di tutte le altre operazioni diciamo più leggerine non c'è assolutamente nessun tipo di differenza se vado a giocare se vado a fare operazioni pesanti allora qualcosina si nota avete visto anche nella navigazione ma sono piccoli dettagli e frazioni di secondo sono entrambi i dispositivi eccellenti questo viene venduto adesso a circa 370 euro quindi un prezzo ridicolo per la qualità del prodotto qui siamo sui 550 la versione 8256 e la 628 poco più di 500 costa un po di più perché al display dual edge i 90 hertz quad hd camera pop up insomma tante piccole cose in più che questo non ha perciò la differenza di prezzo è abbastanza giustificata detto questo vi saluto ci vediamo ai prossimi video in arrivo alla recensione di questo mostro che risponde al nome di oneplus 7 pro e qualche altra chicca che non vi potete perdere mi raccomando continuate a sostenerci diffondete i nostri contenuti grazie a tutti un salutone da pasqui a presto ciao 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 ciao